Dopo più di dieci anni la giustizia registra l'assoluzione degli imputati del processo detto cabina di regia che vide coinvolti tra gli altri l'ex sindaco di Spoltore Franco Ranghelli e l'ex presidente del Consiglio regionale Marino Roselli. Le accuse non si commentano mentre le sentenze si misurano e si pesano, così ha detto oggi il senatore Luciano D'Alfonso che sul caso Roselli ha convocato una conferenza a stampa. Marino Roselli ha aggiunto non è solo un fascicolo giudiziario ma è una persona. La prova è che in tutti questi anni, non più replicabili, i segni del dolore hanno toccato anche la sua salute. Ma come ha vissuto Roselli questi anni? Dopo 12 anni di sofferenze e di rabbia, devo dire con molta sincerità sono molto contento. Devo ringraziare anche la giustizia che si è espressa anche entrando in merito a questa grande vicenda. Io spero che non sia stato in un certo senso un errore, io penso che sia stata una conseguenza anche di un periodo particolare che abbiamo vissuto a Pescara e che chiaramente ha coinvolto tanti comuni della nostra provincia di Pescara. Non lo so se dopo questa esperienza tornerò in politica, penso di no però, anche perché il mio lavoro mi impegna molto e questo devo dire che grazie al mio lavoro sono stato impegnato 12 anni con la mia testa sul mio lavoro. L'impegno di presentare iniziativa normativa per fare in modo che l'articolo 358, che oggi riguarda soltanto la figura del pubblico ministero, possa riguardare in futuro anche le aliquote di polizia giudiziaria relativamente al dovere di ricercare e valorizzare gli elementi e le prove a favore dell'indagato. Ad oggi è un dovere che si ferma al pubblico ministero. Con la riforma proveremo a fare sì che anche le aliquote di polizia giudiziaria abbiano sul proprio lavoro e sulle proprie spalle il dovere di valorizzare le prove a favore dell'indagato.